ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a brawl stars per prima cosa vorrei farvi vedere tutti i brawler che ho ne ho 40 la metà ho due leggendari leon ed energetic però non so se lo conoscete brawl stars poi qui abbiamo sbloccato una pagina di pass mille punti energia e li possiamo utilizzare per potenziare i brawler allora vorrei potenziare otto bit oppure vediamo buzz io provo buzz miglioro se posso potenziare anche otto bit e posso potenziare anche otto bit allora abbiamo potenziato questi due facciamo classificata oppure sopravvivenza dai classificata così esce a caso ricercati ricercati non lo so c'è chi è molto buono ricercati otto bit dai allora inizia la partita allora ricercati se non sapete come si fa ve lo spiego mentre facciamo la partita ogni uccisione vale una o di più stelline e la squadra che arriva prima a 20 stelline ha vinto allora noi stiamo vincendo perché siamo a tre ok ucciso bombardino usiamo la super ok ok è un po difficile perché non sono scarsi ovviamente allora qua c'è maxin no sono morto e poi mi sono dimenticato di dirvi che se uno uccide più volte qualcuno senza morire più volte quando lo uccideranno darà l'altra squadra più stelle per esempio quel bombardino ne aveva quattro e quindici ne ha date quattro quando l'ho ucciso ora maxin ne ha tre io non c'ero bombardino in classificata si morta nooo ero 19 e 19 e mi hanno ucciso l'ultimo secondo dai no allora non voglio fare sempre classificata e voglio sopravvivenza singolo e voglio mettere e buzz che l'ho appena potenziato ok e sta iniziando la partita sopravvivenza invece funziona che praticamente ci sono dieci giocatori che iniziano la partita poi l'ultimo che rimane ha vinto e in base a dove si classifichi ti da un po' di coppe cioè se vinci te ne da otto invece se arrivi ultimo te le toglie allora qui c'è nita ma non la riesco a colpire quindi scappo e andiamo a prendere queste casse allora prendiamo le casse sto arrivando energetic quindi non vorrei arrivarsi vicino perchè tutti i brawlers più o meno sono forti a brock mi uccideva e dove vado sono accerchiato come faccio nooo era quasi morto vabbè ora sono arrivato quinto e mi ha dato tre coppe allora ora esco e rifacciamo un'altra partita sempre con buzz allora qui ci sta una cassa sopra mi sembra di aver visto si e qual colp lo voglio uccidere vieni vieni è stupido che non mi ha sparato mi teneva davanti io scappo eh io scappo barril si è morto c'è boh leon ffff nooo sono morto ancora tre coppe allora voglio cambiare brawler e qui mettiamo mi devo mettere dunamike dunamike sempre sopravvivenza dunamike tira le bombe alte e supera i muri tipo posso fare che uccido nita attraverso il muro per uccidere i miei allora sopravvivenza non sono molto forte quindi andiamo a fare annientamento annientamento mi serve un brawler che fa tante uccisioni mettiamo mettiamo chi mettiamo mettiamo emz allora abbiamo messo annientamento però non ho visto che mappa era quindi può essere anche una mappa chiusa quindi non va bene ah no è molto aperta almeno il centro lo è tutto il resto è chiuso ok ho fatto una kill no è difficile però se ce l'hai vicino allora ah stiamo vincendo stanno qua c'è Bea che però sta pushando che sta andando addosso all'R e Lori e muoio quattro? no tre tre vinciamo tre eliminazioni vinciamo vabbè annientamento chi arriva prima a 10 eliminazioni vince allora una una dovete fare una siiii vinciamo la prima partita di oggi allora allora poi c'è anche il pass ti da eeeh delle ricompense e alla fine c'è uno star drop leggendario dopo ne andremo ad aprire qualcuno di star drop eeeh non mi sono trovato molto bene con emz quindi vorrei provare colette allora eeeh colette eeeh c'è ha una super un po' strana che va avanti e poi va indietro c'è Buzz da di là andiamo sempre di qua eeeh gas ho visto Buzz beh non nono 299 dita eeeh no 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 eeeh qui ho la super posso usare su frank però mi blocca mi hanno fatto una doppia no 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 ha rimasto con 300 di vita ma dai Frank? ah è morto Frank dai vediamo eh ma non ce la faccio oggi non sono in forma ah li perdiamo penso perché c'è questo che ha 640 di vita abbiamo vinto come abbiamo vinto no pensavo che avevamo perso beh in realtà abbiamo vinto la fregatura oh uno star drop super raro allora voglio usare Brock Brock che ha sbloccato la skin dei Power Ranger allora c'è Griff, Bombardino e Lily lo possiamo battere allora Brock vai 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 non l'ho colpito una volta e l'ho ucciso Lily sta da dietro ok stavo sbagliato dovevo buttarla più vicino c'è l'ho qua lì ma e vuoi lì bisogna mettere una super addosso però ha funzionato no Griff faccia addosso no ma non le so usare le super di Brock me ne sono buttata addosso e non ne ho presa una vai e si va oh sto laggando si un'eliminazione alla vittoria si si vince un'altra partita allora non è che ho fatto chissà che con Brock quindi lo cambio con chi però dai voglio provare Leon cioè in realtà non è provare ma è utilizzare ok Leon come uno sparo un po' strano per questo non lo uso molto perché non mi piace tanto è Angelo si però non l'ho ucciso io ah questo si invece scompario scompargo mamma mia che cosa ha fatto Gult una doppia eliminazione in un secondo le altre quattro e abbiamo vinto ok no sono morto eh sì abbiamo vinto abbiamo fatto 11 coppe e però voglio cambiare modalità mettiamo rapina e mettiamo pocio che non lo uso tanto però è molto forte è molto forte perché con la super recupera vita comunque rapina è primamente che voi e i vostri avversari hanno una cassa che ci abbiamo davanti adesso e chi distrugge prima la cassa degli altri avversari ha vinto io io la super io la uso piper viene tutta ok piper è morta però noi stiamo perdendo nooo mi sono fatto male a mettere pocio che è forte che è forte ma non in questa mappa pensavo che era forte però ma non sono passato non siamo passati nessuno di là sono troppo forti dopo devo mettere edgar che salta nooo ma sono immortali sono fortissimi non scade il tempo e perdiamo un 4% di in meno sono troppo forti che devo dire qua sono forti non riusciamo a ma è mai possibile che mi uccida i piper da vicino non è il mio giorno forte non morite siete immortali sono immortali no 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 e ma spara 15 colpi con uno e ma finisce la partita no dovevo mettere edgar abbiamo perso non si può curare la cassa vabbè mettiamo edgar abbiamo detto si è bloccato ok edgar allora edgar se mi ricordo bene la super si ricarica da sola però ci vuole tanto tempo do qua dobbiamo fare eh perché edgar è pure da vicino ma c'è uno spike allora perché va pam perché vado io come la domanda è la domanda vera mi vuoi prendere e salto ti distruggo cassaporte ho fatto ho fatto un sacco di danni alla cassaporte secondo me se lo rifaccio qualche altra volta vinciamo si o vengono tutti e tre con tre colpi ok distruggiamo la torretta no no però sono vivi loro vai distruggete no 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 stavano da soli e ovviamente quando nascono devono devono attaccare aspetta faccio la e sono rimasto solo io a combattere e vabbè se nessuno viene a difendere io qua la distruggo la cassa vabbè noi siamo ancora al 99% l'ho ucciso tutta io la cassa l'ho distrutta tutta io la cassa ho fatto un sacco di danni e arriviamo a soglia 10 con Edgar vabbè non lo so se ce l'ho già facciamo l'ultima partita se la vinciamo bene l'ultima partita questa la voglio vincere perché è l'ultima poi poi qua c'è uno che si chiama Minecraft e lì c'è Bombardino Bea no 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 Carl Carl vai distruggendo abbiamo già levato 20% in un sacco vabbè 25% lo salto e torno vabbè quando ho spaccato perché sto ricoprendo la vita va benissimo abbiamo abbiamo tolto un sacco di dan di vabbè di dan di avrete capito di vita alla cassa vai 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 non vai non vai non vai Bombardino potrebbe tirare un colpo potente no 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 qua ci sta qualcuno si sta bene sciogli si no la linea no si è bloccato il gioco mentre stavo attaccando Bombardino poi io fai un salto no 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 Bombardino mi prende sempre va bene è rimasta Shelly allora qua salto eh ma la loro Shelly pensavo la mia Shelly la nostra Shelly no in realtà penso sia morta la nostra Shelly bene infatti eh l'ultima partita si porta a casa si porta a casa l'ultima partita allora mi sembra che qua ci dovrebbe dare pure uno star drop infatti visto l'ultimo deve essere leggendario perché raro vabbè 10 credit per squeak ragazzi per questo video è tutto se vi piace Brawl Stars lasciate in realtà se vi piace pure il mio canale lasciate like attivate la campanellina iscrivetevi e ciao 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 Grazie a tutti.